di un programma molto seguito allora ragazzi qual è l'idea? mi sembra chiaro allora, vi metto di qua così vi metto tutti in favore, guardate quanto, anche un po' di là tu sei di Capria di Capria che immagino piloterai stando sopra a Rosso dietro a Binghiato a Rosso quanto ci avete messo a creare quest'ombra d'arte? il primo aprile, fino a ora l'ho finito l'altro giorno quindi 3 mesi, 2 mesi e mi fa piacere essere come alla recita della scuola che fa il ghiacciolo si, sono stati dietro di vent'anni e bambini